Scacco al racket della prostituzione a Pescara dove gli agenti della squadra mobile hanno sgominato una organizzazione che gestiva lo sfruttamento di alcune donne nella zona del centro cittadino e verso la Pineta Sud, 11 le misure cautelari restrittive eseguite all'alba di oggi, una persona risulta ancora latitante. Ancora una volta emerge in tutta la sua gravità il fenomeno della prostituzione a Pescara sia in centro che in periferia. Sì, è l'ennesima operazione che noi conduciamo, che non è una lotta contro i mulini a vento perché è un'azione di contrasto comunque necessaria, anche furti e rapine continuano ad accadere e non per questo noi smettiamo di arrestare rapinatori e ladri. Quindi anche sul versante della prostituzione andiamo avanti per la nostra strada, abbiamo fatto già luce su casi pregressi piuttosto inquietanti, abbiamo seguito un anno e mezzo fa una storia di aborti clandestini, abbiamo una volta liberato una ragazza che era tenuta come una schiava, oggi ci siamo imbattuti in questa storia di questa prostituta affetta da HIV e d'epatite che potrebbe aver contagiato qualcuno, quindi è necessario proseguire nel contrasto a questo tipo di fenomeno che tra l'altro garantisce ingenti profitti. Se rendessimo la vita facile agli sfruttatori credo che la situazione sarebbe ben peggiore di quella che abbiamo oggi sotto gli occhi. In azione albanese e romeni? Albanese e romeni sì, con il supporto di due italiani come gregari, cinque gruppi divisi tra di loro eppure comunicanti perché con una strategia coordinata tendevano a evitare il più possibile i conflitti su strada, questo nell'ottica di massimizzare i profitti per evitare che l'attenzione delle forze dell'ordine si concentrasse su di loro. Avete quantificato profitti per le organizzazioni a 9.0? Sì, una delle associazioni più strutturate nel giro di un anno ha effettuato rimesse in Albania per 160.000 euro che sono solo una parte dei ricavi complessivi perché immaginiamo che un'altra parte cospicua sia stata destinata ad altre spese di mantenimento e soprattutto che ci siano state anche rimesse per contante che ovviamente non abbiamo potuto tracciare. Grazie. 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 Grazie.